Ragazzi prima di iniziare volevo dirvi che la live di oggi non sarà alle 15.00 ma sarà alle 18.00 quindi alle 6 di pomeriggio Detto questo mi lascio il video e buona visione Non ci credo ne hanno fatto ancora un'altra ragazzi è uscito il Logical Minecraft 4 Ok detto questo ragazzi vi invito come sempre a lasciare un pollice in su Cerchiamo di superare i 2132 like per questo video Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti detto questo direi che possiamo iniziare subito Neanche inizio entrando in gioco ragazzi cioè proprio inizio dalla schermata di caricamento Ah ok il Logical Minecraft 4 ragazzi perfetto Ho giusto tanto un bottone questo qui ci farà morire sicuro guarda 3 2 1 morti Ah no ah sì morti per chi non conoscesse questa mappa Vi dico soltanto che è una mappa troll che la qualsiasi cosa può farti morire Cercherò ragazzi di non utilizzare questo libro dove ci sono praticamente tutti i consigli Quindi dai per farmi morire ah ok allora quindi mi sa che c'è qualcosa che dobbiamo invece trovare a questo punto Qualcosa di diverso di particolare non c'è nulla Ah ma non sembra che non ci sia nulla Aspetta No raga No ma che cacchio come hanno fatto Tutorial E lassù c'è un bottone abbiamo dei blocchi Guarda cioè guarda No non me li fa piazzare Ok Ah ora sì Cioè devo piazzarli in un ordine a caso praticamente Sbam The command failed to run In che senso Ah forse adesso funziona questo No Visto Mentre sto morendo mi mangio una caramella almeno Tu non muovi le caramelle Ne voglio non essere Forza muori 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 Uh Raga in realtà dovevamo morire E va bene così Allora di qua non si passa Di qua Non si passa Infatti questo qui è il quello più Ok di qua si passa C'è sto coso qui che di No raga No ma direi che lo sto facendo direttamente Là sotto c'è un bottone però Può essere che questo qui è un troll invece No raga mi sa che è un troll No in realtà mi sa che questo qui è un troll Perché è troppo semplice Ma Io l'ho centrato il blocco What No raga Quello lì è un troll Quindi dobbiamo andare qua Quindi dobbiamo ribaggare Come ho fatto a buggarmi Ah così Quindi qua Sbaglio È troppo heads O sono io che ormai Ma Ah ok Perfetto Ok c'è una stanza lì Con un bottone Della lava E il blocco di diamante Che blocca la via Uh C'è una chest qua E c'è un piccone dentro Con scritto che può rompere Il nether brick Dobbiamo trovare il nether brick Eccolo qua Rompiamo il nether brick Ah c'è una chest Ok Questo qui invece può rompere La glowstone Ah qui c'è pure una Ma no raga Per me è troppo semplice Questo qui cosa può rompere Soul sand Quindi presumo che questo Troveremo ragazzi Un'altra chest Molto male in mente Ed eccola qui Oh questo qui ragazzi Può rompere Il blocco di diamanti Già fatto Incredi Da quando è che hanno sperimentato Questa cosa Dei blocchi finti Da quando Non posso fare un salto Con due blocchi Però mi sembra di Vedere un bottone Infatti No raga È difficilissimo Perché comunque Non lo vedi il bottone Però c'è un blocco finto Oh l'ho premuto L'ho premuto ragazzi Quindi ho fatto qualcosa Ah ma aspetta Ma lì c'è una via Fermi tutti Dobbiamo fare il parkourino Tac 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 Oddio no troppo Eccola Sto dicendo è troppo semplice E infatti sono subito caduto Sbam E Ed Ok Va bene Ok Come ci arrivo allora lì Cioè guardate raga Se mi avvicino qua Non ho parole Aspetta No Quindi Se io mi giro E lo guardo Cioè sì Io posso fare Cosa sto combinando Quindi Di conseguenza Oh mio dio raga Aia Dobbiamo sfruttare Il knockback Per salire qua sopra C'è un cartello là I want mushrooms Game rules Mushroom Non capisco sta cosa Però abbiamo il fungetto raga Ok No 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 Passa 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 Ah 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 Ecco sono morto Lo sapevo E vabbè Muoio Che dovevo fare raga E' troppo veloce la lava What? Come livello 5? Oh mio dio What? No raga E' troppo Too much creepy questa cosa No raga Mi sono perso No raga Mi sono perso Ma sono nella stanza di prima What? C'è una chest Ci do sempre Guardare verso l'alto E compare una chest qua Ma come faccio a prenderla C'è guardate C'è una chest No E' impossibile Raga come faccio Ma fammi capire Ah ma Noi siamo dentro la chest C'è la chest C'è la chest Si mette proprio qua sopra Attenzione siamo saliti sopra la chest Ora Ah Come faccio? No raga Oh Ce l'ho fatta North Sud North Sud Ah ho capito raga Con le coordinate Adesso purtroppo non potete vederlo Perché c'è la webcam davanti Dice facing e sud Noi dobbiamo andare a nord Il primo Quindi per di qua E infatti ha fatto bip Ora sud Ora nord Sto perdendo raga Ancora nord Ora sud Sud E nord Oh Mio Dio raga Oh mio dio Delle bestie Siamo già a livello 6 Abbiamo fatto 3 livelli Sennò In 2 minuti Allora Dobbiamo fare questo parkour Come ho capito Ok Intanto l'f3 posso anche elevarlo No raga Ma Troppo forti Aia Cacchi sono bloccati Try to die Again lol Quindi se mi butto qua Muoio Perché non muoio? Ah guardate Button of undying E se lo butto? Sono troppo pro Basta Sono troppo pro E perché sto morendo? Cioè se sto fermo Muoio Non capisco Che è successo C'è un bottone qua Ha fatto bibim Allora qua cosa c'è? C'è un Porto Allora Tac No 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 Si leva il pavimento Ma come cacchio le pensano ste cose? Quindi mi devo mettere qua Ok E abbiamo i Due nugget Forse devo mettere dentro la fornace No Non c'è niente di particolare No Ok Ci non lo so raga Veramente Non E non sto neanche utilizzando ragazzi Ancora Nessun aiuto eh Cioè la chat è pulita Non sto usando nessun Nessun consiglio Niente Allora c'è un bottone però Allora non so se dove c'è la lana È sicuro Oppure dove non c'è Non è sicuro Quindi faccio una cosa Troppo queste qui Se muoio Ecco Le duplico Come rompere la mappa Raga Come rompere tantissimo la mappa Cioè io adesso le butto di nuovo Anzi fammle buttare dall'altra parte Così testo un attimo Prima di tutto il percorso Ecco Oh invece si attenzione Quindi poi di qua Eh Allora di conseguenza Qui se c'è la barriera Pesumo Che lo stesso si di qua Uh attenzione Quindi l'altra barriera Allora Aspetta 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 Ok raga No raga ma La sto capendo tantissimo Non è difficile sta mappa Ve lo giuro Sto diventando il pro di Logical Minecraft Che ho fatto Uh ciao Jeff Ah ecco a cosa servono le nugget Aspettate però Per un bottone Serve una nugget E la redstone La redstone Si ottiene con il cactus E il coal Ok Please Per favore Ok Upla Troppo forti raga Troppo forti Allora ci serve Abbiamo detto Per il bottone della nugget E la lasciamo qui Quindi ci serve adesso Redstone Quindi serve questo Questo qui Di conseguenza facciamo Tac Tac Abbiamo la redstone E questo Più questo qui Non scherzavo Questo e questo Abbiamo il bottone raga No cacchio ma se muoio ora Non Raga non devo assolutamente Ok non sono morto Ma che fa sto bottone Boh Devo andare adesso lì Però Ah Ok Raga io Credo che C'è scritto appunto Di piazzarlo Sopra il blocco In diamante Quindi spero che adesso Sia sbloccato Non sia più un troll Per favore Fa che non sia più un troll Nice Bam Eh ma Ma come Raga c'è qualcosa Che non quadra Non vorrei che ho rotto Adesso la mappa Per aver cittato In quel modo Cosa fa sto bip Non capisco Con Jeff abbiamo fatto Tutto il bottone Serviva per spawnare Jeff L'unica di solito Non l'abbiamo visto È questa Eh ma Non è che Forse devo fare Per forse Cosa fa la forna Oh aspetta Non so Se sono bravo O sto avendo Soltanto fortuna Ragazzi Veramente Che cacchio L'ho re questa cosa È tipo qualcosa Col pistone Ah ho capito Ho capito raga Praticamente Mi sembra Dobbiamo portare Quel blocco Di sabbia Là Non penso sia Una cosa Tanto difficile Ok Forse è un pochettino Pallosa Per via Del mezzo parkour Quindi facciamo così Questo lo pre Ah è un pistone Piccicoso Quello Ok Quindi dobbiamo fare Prima questo Poi questo Ok Poi questo Eh Devo buttarlo lì Quindi questo Con questo No scherzavo Questo E questo Che raga Troppo forti Ma che cacchio è Ok Ora Così Così Questo Che fa Lo porta sopra Ok quindi Questo E questo Ok Ah questo qui Lo porta qui Tac Tac Raga Raga Questo parkour E Ma Perché io ti dico Che il parkour È semplice E muoio Questo parkour È difficilissimo Oh mio dio E infatti È difficilissimo Proprio Ok Devo andare Penso là sopra No 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 Sono stupido No Dai Ti prego Non cadere Allora Aspettate Forse mi devo buttare Là sotto Andare per di là Fare Fare Tutto il giro Raga Già mi sono confuso Io Da lì posso arrivare Là forse Oh mio Raga Io mi sono confuso Giuro Eh Boh Vabbè Proviamo Ok Di qua Di qua Ok qui c'è la scaletta No no dai Ma perché Sembra Sbaglio questo salto Ma perché Ti prego 3 2 1 Let's go No dai Ma perché Non si arrampica Non si arrampica Il mio Personaggine di minecraft Non ha forza Nelle sue braccine Un pochettino come me Oh Ce l'ho fatto Ce l'ho fatto raga Di qua E Bam Checkpoint Ok Ora si va di qua Così Oddio lo sto facendo tutto Di fi Là Allora facciamo una cosa La prima parte Posso fare La parte della scaletta In realtà posso fare adesso Ok No 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 dai Lol heads Mi hanno una gana da pesca Per tirare quello lì Tipo E ora come faccio però Ci arriva Forse Ce la faccio Uh Fatto Sbam Eh no L'ho missato Oddio mi sta andando Mi sto rimpendo di cane da pesca raga Basta Ha A volo Si riusciva a farlo a volo ragazzi Veramente Vai Più sopra Oh preso Fatto Oddio Just quit Give up You can't pass this level You are not illogical Better quit Disconnect you noob You won't pass this level Stuck here forever Senti Tu che mi dici You are not illogical E ti ho fatto questa mappa Sennò in 25 minuti Non mi puoi dire che non sono illogical Cioè te l'ho passata così Allora Disconnect you noob Perché mi devo disconnettere Stuck here forever Just quit Guardate dice sempre Quit Better quit Cioè ci dice di sconnetterci Non ha senso No non ci credo Vabbè ma Ma no No Sono troppo forti raga Troppo forti Raga che dire Abbiamo devastato Questa Mappa Quindi ragazzi Questo è il mio frischio qui Spera tantissimo Vi sia piaciuto Se vi è 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 piaciuto Qua sotto Vi ricordo i passi in descrizione Perché io sono tutti i link Dei miei social Come Instagram E Telegram E anche il mio server Discord Mi raccomando Entrate tutti quanti Abbiamo completamente Distrutto questa mappa Ragazzi L'abbiamo devastata Siamo stati fortissimi Comunque Detto questo Vi invito come sempre Ad iscrivervi al canale Se ancora non vi siete iscritti Volendo per iscrivervi al canale Basta che cliccare Nell'altra Che sta qui c'è Dello schermo E se ce l'avete fatto Potete cliccare La sinistra Adesso Vedete un altro Mio video No ragazzi Detto questo Vi saluto E ci vediamo domani Con un nuovo video Sempre alle 10 e 30 Ciao a tutti